Se c'è una patologia molto diffusa e piuttosto sottovalutata per le sue gravi implicazioni anche di tipo sistemico sulla qualità di vita e anche sulle persone che stanno intorno a questi malati, a questi pazienti e sono le apnee ostruttive del sonno. Noi ci siamo fatti spiegare come stanno le cose e anche quali sono le nuove prospettive di cura soprattutto per una delle complicanze di questa situazione clinica che è l'eccessiva sonolenza diurna dal dottor Giuseppe Insalaco che abbiamo incontrato qui a Bari al congresso nazionale dell'Aipo. Professore Insalaco, che cosa sono esattamente le apnee ostruttive del sonno, come si manifestano e soprattutto quali sono le loro conseguenze cliniche e sulla qualità di vita, l'impatto sui pazienti? È una patologia estremamente diffusa, molto sottovalutata, sicuramente abbondantemente sottodiagnosticata e sottotrattata. Cos'è intanto? È quella patologia che si avviene appunto mentre il soggetto dorme, nel quale si presenta con un russamento estremamente intenso ma un russamento che ha una caratteristica particolare. La caratteristica particolare è l'intermittenza. È un soggetto il quale russa dei momenti di silenzio. Sembra che finalmente abbia terminato questo suo russamento, in realtà poi riprende nuovamente. Quel silenzio in realtà che cos'è? Sono quella fase, quei momenti in cui il soggetto non sta respirando. Il silenzio quindi in questo caso è un dato negativo che non è legato alla cessazione della roncopatia e quindi del russamento, ma è legato alla mancanza del respiro. Una volta che il soggetto si presenta durante la notte è presente in modo ripetuto, su seguirsi di pause, il vero risultato è che chiaramente ha un'alterazione completa di quello che è il suo modo di dormire e non solo. A questa alterazione del sonno si associa la presenza di riduzione dell'ossigenazione a livello dell'organismo, si avviano una serie di meccanismi che portano anche all'alterazione del controllo del nostro sistema nervoso periferico. Tutto questo si ripercuota poi su quella che è la vita quotidiana e sulla vita quotidiana questo si ripercuote con una serie di problematiche legate acutamente al cattivo sonno. Il soggetto ovviamente, come può capitare a chiunque di noi, una notte in cui dorme male, quindi ovviamente comincia ad avere perdite di concentrazione, comincia ad avere perdite di alcune lacune mnesiche, quindi la memoria che ogni tanto dimentica quel che deve fare e cose simili. Ovviamente è un soggetto che riduce notevolmente quella della sua efficienza in tutto quello che deve eseguire durante il giorno. Quindi questi sono soggetti quali necessitano di un trattamento. C'è anche un impatto sul sistema, sull'apparato cardiovascolare di questa apnea, professore? Col tempo poi questi soggetti tendono a sviluppare una serie di patologie. L'ipertensione che una volta veniva definita come essenziale, che in realtà non si fia altro che non sapevamo quale fosse la causa principale, oggi sappiamo che le apnee sono la prima causa di ipertensione arteriosa. È una patologia estremamente diffusa, si calcola, secondo alcune statistiche, addirittura anche l'80% dei soggetti sleep apnoici presentano l'ipertensione. Abbiamo ovviamente eventi cardiovascolari maggiori, pensiamo alle coronaropatie piuttosto che alle eritmie, quindi un interessamento del sistema cardiovascolare è molto importante, anche della vascolarizzazione encefalica che può essere estremamente rilevante e quindi problematiche di questa natura. A tutto questo dobbiamo aggiungere anche problematiche metaboliche, pensiamo al diabete, pensiamo al dislipidemia, problemi quindi di tutti i tipi che possono colpire i vari soggetti. Un qualche cosa che noi potremmo definire semplicemente mio marito o mia moglie russa invece ci sono po' delle conseguenze anche veramente devastanti. Come si arriva alla diagnosi, professore? Allora, una volta identificato quello che è il sintomo principale, il russamento, una volta identificati i sintomi maggiori presenti in questi soggetti, quindi spesso e volentieri come abbiamo visto la sonnolenza durante il giorno, a questi punti di soggetto è fondamentale riuscire a risolvere tutte quelle che sono le limitazioni che presenta. Il trattamento di riferimento è l'applicazione della pressione positiva continua, la cosiddetta C-PAP, appunto che viene somministrata attraverso una maschera applicata a livello nasale collegato a un tubo corrugato che è collegato appunto all'apparecchio e qual è l'aria a pressione. Quest'aria a pressione tende a determinare un cuscinetto pneumatico a livello delle viere superiori della faringe, che è una zona che non presenta una struttura rigida, quindi è facilmente collassabile, tende a chiudersi e in questo modo si tende a preservare la stabilità di questa regione. Il soggetto non ha nessun problema respiratorio, quindi respira e normalizza perfettamente tutta la sua condizione. A volte questo può non essere sufficiente ad eliminare totalmente tutto quello che è il quadro clinico che il soggetto presenta. In questi casi possono entrare in gioco i farmaci, in particolare c'è uno che è arrivato da poco che si chiama Pitolisant. Cos'è questo farmaco, come funziona e soprattutto quali sono i suoi effetti in questi pazienti, anche quando è corretto usarlo, cioè qual è la situazione clinica, se darlo a tutti oppure darlo solo in qualche caso particolare? Questo è un farmaco che attraverso la via istaminergica tende a determinare il mantenimento della veglia da parte del soggetto, quindi non agisce sull'apnea, agisce su un sintomo dell'apnea che a volte può residuare anche al trattamento. Questo farmaco ci permette di poter combattere quello che è un sintomo assolutamente invalidante per il soggetto, quale è la sonnolenza. Il riuscire ad approcciare quello che è il problema della sonnolenza significa restituire una vita decisamente più normale al soggetto, sia a livello sociale della comunità sia a livello familiare e quindi è una grossa arma in più per riuscire a ripristinare una buona qualità di vita per i nostri pazienti. Ecco, senza dimenticare, come lei ha sottolineato nella sua relazione, che poi la sonnolenza di una può essere anche causa di incidenti stradali. Questo è un grande problema, un grande problema di cui si è interessato anche la comunità europea, in cui abbiamo delle normative italiane estremamente precise riguardanti questo tipo di problematiche. Oramai sono presenti da quasi dieci anni, risalgono nel 2014. Decisamente possiamo capire bene come avere sonnolenza durante il giorno non faccia altro che ridurre la nostra capacità di guidare al meglio, di mantenere alla giusta attenzione quella necessaria per una buona guida. Quindi il rischio è l'aumento di accidentalità stradale. Questo aumento di accidentalità stradale ovviamente va risolta e oltre ad avere il soggetto che deve essere conscio di quella che è una sua limitazione, dobbiamo anche aiutarlo a poter condurre una vita assolutamente normale. Il Pitolicent quanto è efficace anche su questo tipo di problematiche e in generale sull'eccessiva sonnolenza diurna? Ha un'indicazione proprio per l'eccessiva sonnolenza diurna e tutta la letteratura riporta come riesca a ridurre sensibilmente la sonnolenza che viene normalmente valutata in tutti questi soggetti attraverso dei questionari molto specifici che riguardano la valutazione della sonnolenza diurna. E con l'ultima domanda, ma penso importante, quando darlo, professore? Cioè quando ci sono le condizioni affinché appunto il farmaco abbia senso? Il farmaco ha senso in due condizioni precise. Una condizione è la presenza di sonnolenza residua nonostante un ottimale trattamento con la CPAP e l'assenza di altre cause di sonnolenza. È chiaro che se la sonnolenza è determinata da una irregolarità della condotta del sonno è quello il primo problema da dover affrontare. Una seconda categoria per cui è prevista sono quei soggetti che rifiutano il trattamento per l'osa, non riescono a tollerarla. Purtroppo esistono anche questi casi. In questo caso il poter risolvere un sintomo maggiore e molto invalidante è un grande supporto a una condizione di vita sicuramente migliore. È ovviamente sempre da perseguire quella che è la buona aderenza al trattamento, ma avere un soggetto che migliora la sua condizione di salute può essere un ulteriore incentivo per facilitare e fargli accettare quello che è il trattamento per la patologia di base appunto per le apneostruttive nel sonno. Magari si parte trattando l'eccessiva sonnolenza e poi il paziente lo convinciamo a fare la chip up. Può essere anche quello un percorso? Sono delle strategie. Non possiamo definire delle strategie che vadano bene per tutti. Ogni singolo soggetto proprio in funzione di quello che è il tipo di vita che conduce, le sue esigenze eccetera, va disegnato un percorso che possa contribuire a migliorare decisamente quello che è il suo quotidiano.